Siamo nel giardino di via Bertossi dove nelle scorse settimane è stato messo a dimora un acero. È solo uno dei numerosi interventi effettuati nell'ambito del programma di nuove piantumazioni, avviato alla fine dello scorso anno e completato in febbraio. Complessivamente, per rendere la nostra città ancora più vivibile ed accogliente, sono stati messi a dimora ben 129 alberi di diverse essenze. Carpini, Bagolari, Liriodendri, Tigli, Liquidambar, Querce, Salici, Ontani, Frassini. Gli ambiti interessati, alcuni viali cittadini, in particolare Viale Grigoletti, ma anche Viale Dante, Via Montereale, alcuni parchi, quello del Seminario, il San Valentino, alcuni cortili scolastici e anche delle aree verdi. In particolare in via Girolami sono stati messi a dimora 15 Carpini, in modo da costituire una barriera verde che separi l'abitato dalla statale 13 per limitare l'inquinamento prodotto dai veicoli in transito lungo la Pontebana. L'impegno del Comune di Pordenone è finalizzato ad incrementare il patrimonio erboreo, lo dimostra anche la creazione di due nuovi boschi urbani nell'ambito di un progetto sponsorizzato da Banca Popolare Friuladrina nella zona sud della città. Sono in corso le nuove piantumazioni a Valle Noncello presso la piscina e coinvolgeremo anche gli alunni della scuola del quartiere organizzando una festa dell'albero a fine mese. Credo che sia importante tutelare le giovani generazioni anche cercando di limitare il cambiamento climatico attraverso l'assorbimento della CO2 che è uno degli effetti positivi delle piantumazioni. Grazie a tutti.